A questo punto sarebbe qualificata ma la gara è lunghissima, molto insidiosa, attenzione, Juninho in area, mette in mezzo Zago, Totti, vedete come viene braccato di Francesco, colpo di tacco, prova Totti, ancora di Francesco, poi di Viaggio, ora Totti, di prima in centro, benissimo, Leinicev verso del vecchio di Francesco, dalla parte apposta, Paolo Sergio, grandissima azione della Roma, il tiro di... Paolo Sergio.